Pensi che riusciresti a tenere testa a Mike Tyson ora che non è più nel ring da svariati anni? Sì, perché no? Ok, allora diamo il via! Mike Tyson contro Mr. Maglietta Bianca! Allora, sei pronto? Porca puttana! Grande! Che ne pensi del tatuaggio che ha Mike sulla faccia? Penso che faccia cagare! Cioè, nel senso, penso che stia meglio senza il tatuaggio. Faccia di c***o! Sembra che qualcuno l'abbia preso a schiaffo in faccia. Fa davvero cagare. Pensi che in un futuro tu potresti mai avere un tatuaggio come quello di Mike? Magari più grosso? Eh, no, no, non credo proprio. Stavi parlando per canto della mia faccia? Ehi, Mike, senti, non davvero, non dicevo su... Ciao! Cazzo, è troppo fico!